Un incontro urgente di concerto con l'ASL e l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno per intervenire in merito al sovraffrullamento del pronto soccorso causato da taglie e chiusure che interessano quasi tutti gli ospedali della provincia. A chiederlo in una lettera indirizzata al prefetto di Salerno Francesco Russo è Salvatore Raimondi e Lorenzo Forte di Medicina Democratica, la sezione di Salerno e Vinicio Colangelo e Margaret Cittadino di Cittadinanza Attiva e Tribunale per i Diritti del Malato. La dirigenza del Ruggi e dell'ASL ne sono ben a conoscenza, si legge nella missiva indirizzata al massimo rappresentante di governo. Eppure non si fa nulla per affrontare le criticità più volte denunciate che si sono presentate anche nella serata di ieri, 31 ottobre, sin dalle 20.30, quando al pronto soccorso del Ruggi di via San Leonardo a Salerno si sono trovate 60 persone in attesa di essere visitate e già 4 autoambulanze ferme con i pazienti all'interno. Una situazione che mette a rischio i cittadini, gli operatori e l'intera città di Salerno, soprattutto in una serata prefestiva. I rappresentanti di Sanità Medicina Democratica, Cittadinanza Attiva e Tribunale per i Diritti del Malato hanno così chiesto al prefetto un incontro urgente al fine di convocare al palazzo di Piazza Mendola i dirigenti del Ruggi d'Aragona di Salerno, dell'Asla di Salerno e le associazioni firmatarie per porre fine a questa grave situazione di emergenza e per venire a conoscenza della volontà e delle azioni che Asla e Dirigenza dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno vogliono metterle in campo ed affrontarle insieme.